Ci aspettavamo che anche in questa occasione, in questa stagione, accada quello che è accaduto. Ogni qual volta la destra ha vinto, ogni qual volta la destra ha avuto il consenso degli elettori per governare, si costituiscono altri contropoteri che penso di avere un giudizio superare a quello che esprimono nelle democrazie cittadini italiani.